Pensiero positivo, azione propositiva, uno slogan che sintetizza al medio l'impegno della CIS nella scuola. Un impegno articolato e diffuso di fronte ad una situazione della nostra pubblica istruzione alquanto difficile, come spiega Sergio Belelli. C'è il problema del precariato e c'è anche il problema del blocco del contratto della scuola che andremo a riprendere i primissimi, fine 2013, primissimi del 2014. Altro problema scottante è quello della chiusura di alcune scuole serali ad Ancona. I corsi serali sono stati diminuiti per questo anno scolastico notevolmente. Noi non siamo stati d'accordo su questa operazione perché riteniamo che l'istruzione in particolare, ma anche un'istruzione finalizzata ad un futuro lavoro, possa essere sempre utile per coloro che magari in un'età scolare possa avere avuto dei problemi che cercavano di riprendere con questi corsi serali e professionalizzanti.